Terremoti in Italia. L'osservatorio Vesuviano ha comunicato all'amministrazione comunale di Pozzuoli che a partire dalle 13.20 è in corso uno sciame sismico nell'area dei campi Flegrei. Sono stati ben 14 terremoti nelle ultime ore, con magnitudo massima di 1.4. L'evento più rilevante è stato localizzato nell'area Solfatara-Pisciarelli con magnitudo 1.4 alle 13.20 alla profondità di 2,8 km.